Senti ma dove trovate la forza per ribaltare una partita dove Macerata stava facendo Trento? E' DNA di questa squadra, quindi noi non molliamo mai, l'abbiamo dimostrato ancora una volta, quindi questa è una bellissima squadra. In chiave Coppa dei Campioni questa vittoria che cosa vale? Niente o tutto? Niente, ogni gara ha una storia diversa, oggi è andata bene per noi, ci godiamo questo momento, questa bellissima vittoria e da domani un po' pensiamo alla Coppa. Cosa hai pensato dopo i primi due set? Beh, le prime due set abbiamo giocato male, anche a merito di Macerata perché ci ha messo molto in difficoltà con la battuta, quindi loro hanno fatto un bel lavoro. Poi dopo il terzo ci abbiamo detto ragazzi, peggio di così non può andare, quindi o perdiamo 3-0 o giriamo la partita. E lo abbiamo fatto, abbiamo messo cuore, atteggiamento in campo e niente, siamo contenti perché abbiamo vinto. Grazie.